Eccomi qua, è Natale, non so che dire ma questa luce che mi trafigge mi chiama a dire delle cose che non so dire, però le sento dentro. Una delle quali mi tormenta davvero, ovvero che questo bambinello l'ho cercato tutta la notte, ma anche in questi giorni. Non lo trovo se non nella luce, ecco infatti la luce che mi chiama adesso in questa posizione, così ancora impastato dalla schiuma da barba, insomma forse sono più Babbo Natale che quelli che vanno in giro travestiti da Babbo Natale, ma per dire che questo bambino che nasce o rinasce ogni anno siamo noi. Dovremmo cercare di essere noi quel bambino, cioè dovremmo essere noi a rinascere. Seguendo quella luce, non pensando sempre ai nostri fatti beceri, quotidiani, piccoli, fatti di angustia, rabbia, dolore, dovremmo cercare l'amore, quello vero, l'amore quello che è l'infa vitale, quello che dà soluzioni e risposte senza saperlo. Cioè basta immergersi dentro di lui, farsi permeare per capire qualcosa di questa vita che non è altro che amore, dono. E quindi, ecco, voglio chiudere dicendo che quel bambino cerchiamolo dentro di noi, dentro la nostra anima impolverata, piena di scartoffie, di cose inutili, appesantita, svuotiamo tutta questa robaccia, sgombriamo l'anima, lasciamola permeare dalla luce e così potremo sentire un Natale diverso, ma non solo il Natale, tutti i giorni saranno diversi per noi. Ogni giorno, ogni ora, ogni secondo sarà importante per noi, perché potremo sentirci veramente al centro di un progetto generale, importante, quello dell'umanità, che ci sta sfuggendo di mano. Quindi, con il cuore veramente, senza retorica, Buon Natale a tutti e spero che ognuno di noi veramente possa unire le forze con l'altro, col suo compagno, col suo vicino, con la sua compagna, con la sua vicina e creare questa energia nuova all'insegna dell'amore. Un bacione a tutti.